Ogni giorno sembra come il primo, eppure sono quindi ad ora nel team e-commerce da due anni. Tutti i giorni migliaia di utenti si collegano al nostro sito, da ogni parte del mondo. Il nostro lavoro consiste nel accompagnare ciascun utente durante l'intero processo d'acquisto, presentare le nostre collezioni, il nostro brand, le nostre calzature, far vivere ai nostri utenti la migliore esperienza digitale possibile. Due anni fa sono approdato qui in India d'ora e vedere quante persone acquistano le nostre calzature, i nostri capi e quanto si sentono vicini al nostro brand, per me è realmente motivo d'orgoglio, mi spinge a dare il massimo giorno dopo giorno.